ciao 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 grazie di essere qui 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 come oggi come oggi come oggi come oggi oggi volevo fare un video molto semplice che so che è sempre molto apprezzato di get right with me mi preparo con voi e è una bellissima giornata oggi e volevo cambiare postazione perché oggi ho la possibilità di filmare qui nel mio studio e volevo condividere con voi questo sfondo che è è vero è parte delle mie del finestrone che ho nello studio sul mio secondo canale avete tutto il video del tour dello studio SMR vi lascio il link il mio secondo canale youtube qui si chiama Chiara Presa e li capirete un pochino dove sono però appunto volevo condividere con voi questa questo bellissimo sfondo con gli alberi molto estivo e che mi calma e rilassa davvero tanto oggi appunto è domenica andrò a pranzo dai miei e volevo farmi giusto un trucco molto leggero molto semplice con voi giusto per giusto per uscire ecco quindi mi sono già mi sono già fatta la skin care mi sono già messa anche il burro cacao ci andrò anche probabilmente a farmi una mini pettinatura perchè i capelli un po' sporchi il primo step prima del make up è mettermi la crema solare la protezione solare io uso questa di Aven che ho trovato che trovo in farmacia si assorbe abbastanza velocemente dà un pochino la sensazione di unto sul viso per i primi 2-3 minuti poi sparisce ovviamente però una cosa che mi piace è che si si spalma subito non lascia molto il bianco ci vuole veramente poco per togliere il bianco della crema la crema all'interno è appunto così giallo bianca maionese tipo e ne metto un bel po' ne metto anche sul collo queste 50 più io mi sto comunque abbronzando perché faccio passeggiate eccetera ma ci tengo a proteggere la mia pelle più che altro cioè ci tengo a proteggere la mia pelle punto e non mi interessa molto dell'abbronzatura devo dire vedete che si spalma subito cioè non c'è più il bianco alcune creme solari cioè sembra che più le spalmi più il bianco si si moltiplichi e lo faccio ovviamente la metto tutti i giorni sia per una questione di protezione proprio della pelle dopo me la metterò anche un po' qui sia per una questione anche di non voglio che invecchi più del dovuto nel senso non voglio che invecchi la mia pelle invecchi anche a casa del sole ok dobbiamo andare a mettere anche sulle spalle eccetera quella corpo anche se oggi comunque non starò tanto fuori ecco mi rimane un po' impiccicaticce ora comincio dal pettinarmi le sopracciglia ho questa che ha un pochetto di guine del buo che ha questa parte trasparente e ancora anche dei fiorellini disegnati sopra e ha invece questa parte in non penso proprio sia perle a questo disegnino e lanzone guardate che carino ammetto di averla presa da primark circa tre anni fa come sapete se mi seguite anche da altre parti io non faccio acquisti da primark eccetera ci sono poche eccezioni che faccio sopra qui questa cosa era troppo carina e l'ho presa ammetto ok allora il cerpa sopracciglia pensavo di averlo lasciato in bagno allora vado a pettinarmi le sopracciglia le sopracciglia le sopracciglia e poi vado a fissarle e poi vado a fissarle le sopracciglia 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 adesso con un gel sopracciglia questo è abbastanza vecchio ma funziona ancora di Pana Beauty cioè ormai penso sia abbastanza finito in realtà io continuo a usarlo così praticamente il gel è finito e vado a fissarle come vedete è molto usato adesso correttore 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 mi sono accorta di essermi abbronzata soprattutto perché prima usavo un mix e due correttore non più chiaro non più scuro questi due adesso uso solo quello più scuro quindi mi sono abbronzata leggermente vado a usare questo pennellino ieri ho visto un tiktok in cui vado a usare lo zelo due in questo ieri ho visto un tiktok in cui ma l'ha messo a poco in cui una make up artist diceva di mettere il correttore sulla mano diceva di mettere il correttore sulla mano e poi da qui di prenderne un po' e pian piano metterlo sotto gli occhi non ho uno specchio molto male qui ci sarà la fotocamera interna del mio cellulare un po' anche rima che vabbè è quello che è però qui a me non interessa un effetto troppo coprente mi basta solo svegliare un pochino il mio sguardo e ok e insomma dare un pochino di freschezza al mio viso tutto metto anche per l'altro occhio e spiegava che questa make up artist che è meglio mettere sulle mani perché poi magari queste cose le sapete già non avevo mai provato effettivamente a far così alla fine mettevo sempre il rollino del correttore sotto l'occhio che poi sfumavo vediamo se un po' sull'occhio ok vado a farmi un pochino di eyeliner e vado a usare in realtà vado a usare in realtà una palette per sopracciglia e di make up the light per cosma i fai ed è appunto questa palettina per sopracciglia molto semplice che però io utilizzo appunto ho mai tolto lo specchio in letta è stato meno soddisfacente per questo ho uno specchio e la uso la uso come guardate c'è anche tutto vi faccio vedere anche davanti a me c'è una luce poi c'è tutto il verde perché anche qui davanti ho una finestra con tutti degli alberi comunque vado a utilizzare un marroncino per fare un eyeliner veramente molto 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 naturale e mi scrive i marroncini dai ma nulla di troppo definito troppo evidente giusto più che altro per allungare l'occhio ok questo rumore è del pennellino sulle mie sopra città delle mie ciglia ok tutto 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 vado un pochino ancora sopra non so non so se notiate già come l'occhio questo occhio è molto più liftato risulta molto più elegante molto più armonizzato mi piace tantissimo l'effetto dell'eyline dal fatto così unica becca magari dovrebbe essere ripassato durante la giornata almeno una volta perché tende un pochino a togliersi però mi piace molto mi piace più questo rispetto all'eyeliner magari fatto proprio con l'eyeliner d'altra parte sempre difficoltà allora dall'altra parte non so perché mi viene sempre peggio un pochino proprio sulle ciglia ok come vedete mi viene molto molto meglio questo di questo ogni volta non so perché è una roba assurda e e poi vado a definire l'occhio passando il pennellino con rimasolio di correttore mi piace molto il risultato tengo questa palettina qui perché così si mi serve a spiegliare cioè sicuramente ci faccio qui spero davvero che rilassi lo sfondo a me piace tantissimo ok allora passiamo come blush è uno dei miei preferiti anche se mio preferito purtroppo l'ho finito è questo di Cass è un brand tedesco e fa parte di questo oh no si è un po' rotto fa parte di questo duo blush da una parte che oggi è un po' frantumato non capisco perché fino a io l'ho messo bene comunque e dall'altra parte c'è l'illuminante che uso un pochino meno perché è un pochino chiaro per me però insomma è molto comodo questo duo anche quando si va in viaggio ecco e a prendere scherzavo prima vado a mettere un pochino di terra questa è dei bi bronzi di baby sicaia anche il mio blush pesiolito fa parte sempre di questa linea in stick di baby sicaia mi piace veramente tantissimo ve l'ho già detto me l'avete vista in tutti i video e anche qui vado a prenderlo col pennellino quindi non vado direttamente sul viso ma passo il pennello il prodotto non mi metto quasi mal bronzer quindi vedremo come viene tra l'altro senza base vabbè voglio un effetto molto leggero quasi impercettibile lo sarei dire no adesso si vede dai e in questo modo diceva la ragazza perché il segreto per un make up fatto bene è sfumare sempre meglio sfumi meglio risulterà il make up e quindi diceva così praticamente tu mettendo il prodotto cominci già a sfumare invece se tu lo applichi fai la striscia cosa che facevo nel mentre un po' si secco un po' è e non verrà bene invece così dovrebbe venire meglio non so ditemi voi come ve lo vedete quindi un altro po' di prodotto sul pennello che probabilmente non è anche il pennello adattissimo va bene così e vado sullo ziggono tipo allora io non vedo quasi nulla però siccome dal video si vede un po' di più ma lo so ne metto un altro pochino e vado anche dall'altra parte e prendo appunto il blush anche questo cerco sempre senza ok questo si vedrà è abbastanza comunque intenso lo vado a mettere sopra e comincio appunto picchiettando il prodotto mi piace molto questo colore anche se tecnicamente non sarebbe proprio il mio però trovo che soprattutto d'estate mi dia adesso che la pelle è un po' più abbronzata ci stia bene e un po' di vivacità al mio viso un po' di vita ok ok a volte se magari non mi sono messa c'è l'eyeliner o non me lo metto posso proprio il pennello così sugli occhi per metterlo un pochino anche sugli occhi ok cosa ne dite? a me piace molto e già secondo me la situazione è cambiata mettiamo via tutto mettiamo il tappo e anche questo prodottino e anche questo prodottino in carta ok adesso manca il mascara e il rossetto un po' di illuminante ma quello di cast non mi ispiro oggi quindi non lo so allora ho portato un prodottino però per gli occhi di questo brand che mi piace e da impazzire che si chiama GD vediamo così guardate che bello questo tipo un brettino per gli occhi stupendo molto luminoso e vuol mettere poco non lo so è il numero 0303033333 il brand piace tanto ci ho anche collaborato per gli smalti che tra l'altro sto indossando e per me è veramente altissima qualità bag stupendi meraviglioso mi piace molto cerco un pennellino altrimenti vado ok e vado molto delicatamente e molto proprio in modo leggero a mettere mio ombretto questo ombretto sulle palpebre guardate che bello la differenza comunque di luminosità secondo me è molto bello molto naturale e però onestamente non penso riesco a fare anche da illuminante è proprio solo ombretto mi piace molto adesso faccio anche l'altro occhio ok eccoci mi piace allora adesso proprio manca solo mascara rossetto c'è un nuvolone si è passata un po' la luce ok ok allora mascara o questo che si chiama è sky high o sensational sky high lash sensational sky high emy sky super super hair un po' library a questo punto scritto sky high sky cheap high 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 dollar high 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 low scoling è molto semplice non quello che sceglierai tutti i giorni ma mi piace comunque molto questa mascara semplicemente lo scoling non è uno dei miei preferenti allora però le prende molto belle a ciglia devo dire allora 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 si sente? ok primo occhio adesso ho giù un altro passadino ok ci siamo quasi ok un altro occhio non so se fare un'altra passata provo un'altra leggera passata su quest'occhio per vedere se fa un effetto più intenso comunque il bello di questo mascara è che si si stratifica veramente tantissimissimo ok dire basta tu vuoi troppo c'è qualcuno che sta camminando almeno di sotto ok ok adesso faccio l'altro occhio adesso faccio l'altro occhio perché faccio fatica a farvi sentire non è vero lo proviamo quanto bello questo tono quanto bello questo tono ok sono molto scomoda ci vediamo mascara fatto 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 ultimo step del make up make up make up make up e questo rossetto sapete che uno dei miei suoni preferenti è quello del rossetto che si apre e si chiude un buon dolore è molto bello tutte le M del brand che mi esauda sul rossetto sul rossetto sul torso del rossetto e questo malva molto 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 simile alle mie labbra un po' lucidino molto cremoso mi piace tantissimo e mi piace anche un pochino sportare con questo rossetto per fare l'affetto di labbra un pochino più gonfie e qui è il numero 105 dei cat creamy ok come vedete è praticamente molto simile alle mie labbra e quando vado qui sporto proprio leggermente questo questo è il risultato finale mi piace mi piace molto adesso proviamo a fare qualcosina anche con i capelli di veramente molto semplice e vediamo cosa ci sta da fuori domani stasera me li devo lavare e anche domani stasera però non ho fatto in tempo stamattina visto che non ero in forma il blush allora mi tolgo anche l'altra cuffietta quindi adesso sono senza cuffie e non sento troppi rumori esterni spero non ce ne siano troppi vado a prendere questa bustina in cui ci sono un po' di mollette un po' di filastici trasparenti secondo me secondo me è un risultato molto bello vado a prendere un po' di elastici trasparenti uno due tre e quattro so che si sente l'aereo mi dispiace io vado a prendere vado a prendere vado a prendere le pettine le pettine le pettine allora guardiamo secondo me così no proviamo se sono abbastanza abito però farei una cosa del genere mi fa mal di testa tirandoli su così mi fa mal di testa mi sa che mi faccio una treccia veloce non lo so non lo so oggi provo un po' di odio nei confronti i miei capelli non mi piacciono per niente vediamo se no proviamo a fare un unico cotieno qui dietro non mi fa impazzire ma va bene così ok metto giusto un altro codino per fissarlo perché a volte si rompono vediamo ok e questo è il risultato finale e questo è il risultato finale troppo per muri ma soprattutto spero davvero che vi abbia fatto piacere questo sfondo ho messo anche i fiori finti qui vedete quelli per me sono meravigliosi per me sono meravigliosi bellissimi io non so chi li ha notati sullo sfondo se vuoi se vuoi cosa non mi inquadro un capello vabbè dopo magari me lo rifaccio meglio ho messo qui sullo sfondo spero davvero questo video vi sia piaciuto che vi abbia rilassato che lo sfondo vi abbia rilassato io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 sia giunta 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 allora di abbassare le luci e augurarvi augurarti augurare a te a te, a te, a te una buona, buona notte spero di aver rotato i denti lo sognito oro good night sweet dreams buenas noches dulces sueños buon, buon, buon nuit vedete joy you have good night le canoste buon notte, piccoli pasticcini al pistacchio un bacione che le spera buon vino Alright come